La comunità di Villa Literno, in provincia di Caserta, è profondamente scossa dalla tragedia avvenuta questa notte. Un incidente stradale ha causato la morte di tre giovani, Dimitri Iannone, 24 anni, noto per aver partecipato alla prima edizione del reality Il Collegio su Rai 2, Filomena Del Piano, 19 anni, e Robert Banic, 23 anni. L'auto su cui viaggiavano si è scontrata con un'altra vettura e si è ribaltata intrappolando i tre ragazze all'interno dell'abitacolo. L'incidente è avvenuto in via delle dune e ha causato il ferimento di altre tre persone. L'intera cittadina è rimasta senza parole di fronte a questa tragedia che ha strappato via tre giovani vite in modo così drammatico. Come detto, la comunità di Villa l'iterno è sconvolta dalla tragedia. Il sindaco Valerio di Fraia ha così commentato l'accaduto. Questa mattina la nostra comunità si è risvegliata con una notizia che ci lascia tutti sconvolti. Tre giovanissimi hanno perso la vita a seguito di un incidente stradale con il cuore colmo di dolore interpretando il sentimento collettivo della nostra città. Rivolgo a nome della nostra comunità e mio personale i più profondi sentimenti di cordoglio e vicinanza alle famiglie. Alle altre tre persone ferite auguro che possano rimettersi al più presto. A loro siamo vicini nella speranza e nella preghiera.